25.000 Interazione Cassa Integrazione Problema Precariato Problema Corruzione Corruzione Sempre un problema per tutto Dunque Corruzione Diciamo un problema La prossima di parte Cosa vai? Parlamento Istituzione Operinale Operinale Consultazione PD Problemone Sì, sì, sì Sicurezza Persiani Persiani passati Vendola Vendola Barlume di Speranza Grillo Grillo, leader politico Rezzi 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 Leader politico Sì Letta Incaricato Sinistra Sinistra Che è quella direi sicurezza Nel senso che c'è Destra Adovandri Adovandri Adovandri